Come il Movimento 5 Stelle sono contro le pale eoliche in mare, ma oggi scoprono dalla Gazzetta del Mezzogiorno che il candidato barlettano al Senato del partito di Di Maio è consulente del progetto eolico offshore. Eppure, dicono dal centrodestra BAT, il professor Ruggero IV, candidato dal partito senza passare dalle famose parlamentarie, si definisce come convinto ambientalista. Il primo progetto fu presentato nel 2007, rivela la Gazzetta, e prevedeva 85 turbine in mare. Bocciato dai territori che vanno da Manfredoni a Barletta, sarebbe stato ripresentato l'8 gennaio 2018 in versione ridotta. 50 pale eoliche del diametro di 5 metri su piloni di cemento alti 150 metri. Nel patto con il territorio sottoscritto dai candidati di centrodestra, Silvestris e Damiani per il Senato, Ventola e Mele per la Camera, c'è il no a questo tipo di sfruttamento del territorio. Ed oggi tutti insieme ribadiscono l'importanza di questa battaglia che ha risvolti ambientali e turistici, invitando tutti i cittadini ad aderire alla campagna contro l'eolico offshore sul sito www.nopaleoliche.it.